Nuove tecnologie, sostenibilità, prefabbricazione, l'uso di materiali naturali e ancora tutta la parte tecnologica rispetto all'intelligenza artificiale e ai nuovi macchinari anche che vengono utilizzati ad esempio nelle fasi di posa o all'interno del cantiere per facilitare il lavoro. Ecco, tutto questo fa parte di quel bagaglio di novità che è attrattivo e può essere attrattivo per i giovani che devono lavorare nell'edilizia nel futuro. Occorre che questo messaggio venga comunicato correttamente alle nuove generazioni e occorre che si riesca ad andare a intercettare un pubblico di nuovi giovani motivati e di qualità che entrano nell'edilizia perché riconoscono nell'edilizia tutto questo, tutto questo valore di sostenibilità e di innovazione che guarda al futuro. Occorre anche formare i formatori perché questo mondo che è così importante per lo sviluppo della nostra società del domani perché le infrastrutture, le nostre case, il patrimonio edilizio è parte del mondo in cui noi abitiamo tutti i giorni. Ecco, tutto questo mondo deve essere preparato e quindi i formatori dovranno essere preparati ad andare a formare questa nuova classe di operai di tecnici del domani.